Ciao a tutti ragazzi, benvenuti qui da Vostra Per Gamer oggi andiamo a dare su tutti i pronostici quanto riguarda questa diciottesima giornata come vedete qui sullo schermo vedete su tutti i match che giocheranno soprattutto in questa diciottesima giornata ma prima vi invito sempre a iscrivervi al canale e lasciare un like e a te le campagne per la stagione e sui miei contenuti. Parliamo soprattutto della diciottesima giornata di Serie A il primo anticipo si giocherà stasera alle 20.45 e giocherà soprattutto Napoli-Juventus Big Match dove si deciderà soprattutto le sorti di entrambi le squadre sorti veramente importanti soprattutto in quanto riguarda il Napoli e anche la Juventus quindi Spalletti contro Massimiliano Allegri. Il nostro pronostico stasera è un bel gol-goal, lo scriviamo adesso perché vedete soprattutto una partita dove entrambi le squadre hanno la possibilità di andare al segno, hanno i giocatori per poter far gol e poter far male su tutte le difese quindi per me Napoli-Juventus è da gol-goal poi parliamo anche di Cremonese-Monza che gioca su tutte le tre di sabato una partita su tutto sconto salvezza perché vediamo il Monza è la Cremonese Cremonese ultima che ancora non ha fatto nessuna vittoria sono sette pareggi sconfitte 11 gol fatti 29 subiti mentre il Monza potrebbe continuare la sua scia portando in casa anche questa partita io vedo più Monza motivato rispetto alla Cremonese quindi andiamo a mettere una doppia chance in questa partita dove portiamo soprattutto al sicuro questo pronostico quindi andiamo con l'Iz2 poi parliamo di Lecce-Milan Lecce-Milan se andiamo a vedere le partite tra le partite precedenti che ha giocato sia il Lecce che sia il Milan vediamo il Lecce che ha pareggiato contro lo Spezia mentre il Milan pareggia contro la Roma due squadre che vedendo le partite precedenti hanno bisogno veramente di punti il Milan per continuare a lottare per lo scudetto che si trova a quota 37 punti il Milan il Lecce a quota 19 quindi vedo più un Milan favorito e per non sbagliare su tutto il pronostico andiamo a mettere un un Iz2 del Milan che è veramente un pronostico con l'80% di proprietà di riuscita quindi andiamo a mettere Iz2 per quanto riguarda Lecce-Milan poi parliamo dell'Inter-Verona che si giocherà alle 20.45 di domani andiamo a mettere uno Inter veramente favorito per quanto riguarda questa partita dove abbiamo visto anche il Verona che ha vinto l'ultima partita contro la Cremonese ma contro l'Inter che gioca in casa con il grande supporto dei tifosi ha un grande vantaggio rispetto a Verona e quindi anche come singoli messi in campo è nettamente superiore soprattutto a questo Verona quindi uno come pronostico Sassuolo Lazio sono due squadre che abbiamo visto alti e bassi queste due squadre da cui sta passando un brutto momento tutto Lazio quindi in questa partita io andrò a mettere come pronostico gol gol una partita dove sia Sassuolo che era Lazio può fare veramente male soprattutto in difesa avversaria quindi gol gol tra Sassuolo e Lazio per quanto riguarda Torino-Spezia io andrò a mettere uno hits del Torino che ho visto veramente in forma in Coppa Italia anche se arriva un po' stanco contro contro lo Spezia e questa partita è veramente importante il Torino perché si trova a quota 23 Torino vincendo se ne andrebbe soprattutto quasi in zona Europa quindi il Torino secondo me farà una bella partita insieme contro lo Spezia quindi come pronostico uno hits andiamo invece con L'Udinese Bologna L'Udinese Bologna vedo più la vittoria entrambi le due squadre vedo più in forma Bologna e vedo una doppia chance quanto riguarda Udinese Bologna e vado su l'1-2 perché entrambi le due squadre possono portare a casa questa partita non vedo un pareggio tra entrambi le due squadre ma vedo soprattutto una squadra solamente una squadra vittoriosa e nessun pareggio in questa partita quindi il mio pronostico è 1-2 per quanto riguarda l'Atalanta contro la Serenitana una partita veramente rognosa dove la Serenitana può fare punti e può portare anche strappando un pareggio in questa partita ma vediamo che l'Atalanta si sta riprendendo abbiamo visto la vittoria contro il Bologna quindi andiamo a mettere uno hits per quanto riguarda l'Atalanta invece poi Roma Fiorentina entrambe le squadre si giocheranno soprattutto si giocheranno tutta la vittoria perché hanno bisogno veramente di punti sia la Roma che sia la Fiorentina e la Roma per rincorrere l'obiettivo Champions e vincendo questa partita se andrebbe a quota 34 vedendo anche l'Inter che vincerebbe soprattutto contro il Verona se andrebbe a quota 38 quindi sarebbe soprattutto sempre a meno 4 dal quarto posto ma può sperare soprattutto in qualche passo falso che riguarda le prime 4 squadre quindi andiamo a mettere in questa partita andiamo a mettere un pronostico gol-goal che vedo entrambe le due squadre che hanno bisogno di punti per salire tutto la classifica e quindi come pronostico secondo me sarà un bel gol-goal per quanto riguarda l'Empoli contro la Samp entrambe le due squadre se andiamo in classifica la Samp è per ultima mentre l'Empoli è quasi a metà classifica qui la Samp se non vince non strappa nessun pareggio in questa partita veramente si metterebbe veramente male per il cammino della Samp Stankovic sicuramente preparerà bene questa partita quindi diamo fiducia al Samp che secondo me la vedo più favorita rispetto all'Empoli quindi andiamo a mettere 1-2 questi sono i pronostici quanto riguarda soprattutto la diciottesima giornata di Serie A fatemi sapere attraverso i commenti i vostri pronostici e ci vediamo al prossimo video vi ricordo sempre che nei precedenti pronostici abbiamo sbagliato ben se non sbaglio 1-2-3-4-5-6 6 pronostici su 10 veramente una brutta probabilità di vincita abbiamo avuto nelle scorse partite nella diciassettesima giornata di Serie A speriamo in questi pronostici che studiando le squadre vedendo tutto l'andamento per ora la situazione che stanno passando tutte le squadre io ricavo su tutto questi pronostici fatemi sapere i vostri pronostici attraverso i commenti ci vediamo alla prossima bella ragazzi